buongiorno e benvenuti a questa nuova recensione oggi d'un per caterpillar 769 di modello in scala 150 modello prodotto da nzg come si può vedere qua sotto ed uscito nel 2000 questa qua è la scatola di cartone all'interno il modello riposto nel polistirolo qua sotto troviamo il logo certificare l'autorizzazione da parte di cat sulla scatola è presente solo questa foto della macchina vera su entrambi i lati e la ritroviamo anche sulle testate della scatola e qua sotto la parola camion da cantiero dun per fuoristrada nelle varie lingue direi che possiamo andare allora a vedere il cat 769 di bene eccoci qua allora con il dumper cat 769 di versione bianca rispetto alla versione gialla cambia solo il colore non sono presenti ulteriori dettagli o modifica al modello è solo stata cambiata la vernice partendo dalla cabina abbiamo ringhiere in plastica a protezione dell'operatore quando scende e sale portiera cabina con all'interno posto guida volante e sedile passeggero non vedo altre cose o dettagli a riguardo qua abbiamo il vano motore davanti il mascherone su entrambi i lati sono presenti le scalette metallo per poter salire anche da questo lato ringhiere a protezione anticaduta tubo di scarico in metallo prese per i filtri dell'aria sotto la scritta 769d abbiamo la riproduzione dei fanali con della plastica azzurrina purtroppo il modello essendo stato preso usato ha alcuni difetti sulla vernice che in alcuni punti è scrostata purtroppo quando si prendono i modelli usati il rischio è sempre alto specie su danni alla vernice sotto il cassone lato cabina questo dovrebbe essere il serbatoio del gasolio al retro abbiamo la sale ammortizzato con delle molle che si intravedono poi i classici ferri che vanno a infilarsi nelle gemelle in modo da far saltare via i sassi se si dovessero andare incastrare tra una gomma e l'altra ecco questi sono i difetti della vernice di cui parlavo prima da questo lato abbiamo il serbatoio dell'olio idraulico fondo del modello qua si vedono i due pistoni per il ribaltamento del cassone la sale davanti ovviamente è sterzante sotto qua si possono vedere le varie costole a rinforzo del cassone come sulla macchina vera dettagli sulla riproduzione del motore non c'è nulla come dicevo il modello è del 2000 quindi ha 20 anni ovviamente per l'epoca era secondo me un bel modello molto metallo poca plastica anche le ringhiere in metallo leggermente sovradimensionate per essere in scala 1 a 50 ma comunque tutto sommato fanno una bella figura come voto per l'anno di uscita gli darei un 7 e mezzo discreto livello di dettagli ovviamente non si poteva pretendere chissà che già di per sé comunque un doomper non è che sia una macchina vera con molti dettagli si può andare in in questi casi magari riprodurre qualche dettaglio del motore ma niente di più questo modello come dicevo l'ho comprato usato qualche anno fa da un negozio tedesco se ricordo giusto mi pare di averlo pagato sui 35 40 euro completo di scatola io cercavo la versione gialla per caso ho trovato la versione bianca e tutto sommato mi andava bene lo stesso peccato giusto per i segni che avete visto sul cassone della vernice saltata ma comunque lo reputo un buon modello e preso secondo me anche al prezzo giusto se avete domande commentate pure qua sotto penso di averlo descritto in tutte le sue parti in descrizione trovate i link ai miei canali social facebook e instagram potete seguirmi anche lì se vi è piaciuto il video lasciate un like iscrivetevi al canale youtube per essere sempre aggiornati sui nuovi video qui in alto a destra trovate il link al collegamento alla playlist con altre mie recensioni e ci vediamo alla prossima ciao